Amici sportivi, appassionati di futsal, buon pomeriggio e benvenuti al Pallabianchini di Latina, stiamo per vivere insieme una giornata, la giornata finale per quel che riguarda la competizione relativa alla Coppa Amatori Futsal di calcio a 5 e stiamo per assistere dunque alla prima delle due semifinali e sono di fronte la formazione del Lavinio e quella del Roteam. E dunque si aspetta il fesco del direttore di gara per questo primo incontro, dunque si parte con la formazione in maglia nera del Lavinio che prova subito questa prima azione offensiva, si gioca sulla distanza di 25 minuti per frazione, attenzione adesso a questa iniziativa da parte del numero 7, Pistillo, scusate Cocuzza, il colpo di tacco da parte di Ritano, poi a sinistra la scucchiaiata ancora con questo pallone che arriva sui piedi di pace, che sentenzia Marin, splendida azione da parte del Lavinio che passa dunque in vantaggio con questo assist al bacio di Ritano. Tanto vediamo come il pallone si è capitato accidentalmente sulla testa del direttore di gara, attenzione a questa conclusione che è stata scoccata da Grama, adesso c'è Grama il capitano che sbaglia tutto, regala questo pallone sanguinoso al numero 15 del Lavinio, si trattava di Ascente che fallisce però con la punta del piede, l'imbucata sul secondo palo, viene intanto posizionato Cocuzza dal portiere Mangiri sul primo palo, evidentemente vuole creare uno scudo, uno schermo, battuto intanto questo calcio di punizione, il pallone che termina in fondo al sacco, è stato ancora una volta Bulboaca a far male al Lavinio, ci aveva già provato in altre circostanze, adesso è andato a bersaglio, anche in questo caso però distrazione fatale, vota e risposta e per il Lavinio tutto quanto nuovamente da rifare, attenzione intanto a questa conclusione, ancora una volta Grama, prova a scucchiaiare questo pallone, Rabona da parte di Rungoci, poi Padurario che non trova il suo compagno libero, riconquista nuovamente la sfera, il numero 7 che colpisce il palo, a fari spenti, ha esploso questo destro Padurario, la rimessa laterale è battuta adesso da Ascente che orienta il pallone verso Ritano, ancora Ascente, non riesce a superare però il suo avversario Padurario che se ne va fino in fondo, trova all'esterno della rete, prima accelerazione da parte del Rotim Lungoci, Lungoci, il destro di Lungoci, la risposta del portiere e poi c'è la rete del 2 a 1 che è stata realizzata da Padurario, al posto giusto del momento giusto, è riuscito a cogliere impreparato il portiere Mangili che già comunque se l'era cavata in occasione della prima conclusione, dopo l'ottimo inizio del Lavinio, la squadra in maglia celeste con Bulboaca che ci prova, da posizione impossibile, colpo da biliardo, geniale da parte di Alexandru Gavril Bulboaca, il pallone non si sa come, termina sul secondo palo in buca d'angolo e siamo 3 a 1 Rimessa laterale già battuta con Mangili, verticalizza male però, verso Bulboaca, attenzione perché qui può essere esiziale, lo è il Rotim che centra il poker con la marcatura da parte di Lungoci, a nostro avviso il migliore in campo fino a questo momento, insieme a Bulboaca e sono 4 dunque per il Rotim sul pallone c'è della sfera Ritano, arma il destro, pericoloso, deviazione da parte forse di un difensore, anzi no la lunga cittata da parte di Marin, direttamente tra le braccia del suo collega Mangili che poi prova a dare subito velocemente a sinistra Ritano attenzione a questo tiro da parte di Ferenzi questo dribbling, senza però ottenere granché Gentile, che caccia in porta, c'entra in pieno la traversa grande chance qui per la formazione del Lavinio data vicina la marcatura del 4 a 2, perso in maniera davvero elementare il pallone dal numero 10 Ritano ed è dunque ancora una volta il Rotim ad andare a segno Gentile, forse qui un fallo ci è sembrato abbastanza evidente anche se adesso protestano tutti Gentile il sinistro e il gol proprio sotto l'incrocio alla destra del portiere Marin trasformazione impeccabile qui da parte di Pace che dunque porta il risultato sul 2 a 5 ancora il gioco di prestigio da parte di Ritano 1-2 che si chiude e c'è la rete il 5 a 3 da parte di Pace si è accesa dunque all'improvviso la squadra del Lavinio che ha trovato dunque la terza marcatura e qui adesso il discorso si fa decisamente più interessante Lavinio che prova a tessere la tela questo pallone che arriva dalle parti del calciatore con la maglia numero 15 incredibile chance per Ascente destro intanto che va a parte di Ritano e finisce qui il successo dunque da parte del Roteam che supera il Lavinio per 5 reti a 3 a proda dunque alla finale che si svolgerà fra qualche ora e dunque la prima semifinalista la prima finalista scusate la squadra del Roteam grazie a questo successo e dunque fra poco assisteremo alla seconda semifinale per vedere chi la raggiungerà per l'atto conclusivo ed è tutto dunque per il momento ci risentiamo fra qualche istante per vivere insieme il secondo match di questo pomeriggio in via grazie a tutti